Troppe proteine danneggiano i reni? Io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento, in questo canale parliamo proprio di questo. Oggi rispondo al tema delle proteine e di reni. Cerchiamo di capire come mai nasce questa credenza, se è vera e insomma cerchiamo di fare un ragionamento visto che mi viene fatta spesso questa domanda e direi che in 15 anni mi è stata fatta abbastanza, mi è stata fatta abbastanza spesso. Prima di andare avanti in questo video però ti chiedo un favore, mi farebbe davvero piacere se ti iscrivi al canale, lasci un like al video in modo che possa arrivare a quante più persone possibili e che questi contenuti di valore possano aiutare quante più persone possibili. È un piccolo contributo da parte tua, io dall'altra parte mi impegnerò di fare sempre video di ottima qualità. Sappi che se lasci invece un schiacci sulla campanella puoi ricevere la notifica ogni volta che esce un video ed escono tre video tutte le settimane. Grazie. Allora la prima causa di dialisi nel mondo occidentale è il diabete. Il diabete di tipo 2 è una patologia causata da un eccesso di zuccheri, da un eccesso di glucosio nel sangue in modo continuo finché diventa diabete. Il diabetico, il decorso che ha, se non applica tutto quello che spiego in questo canale, riduce gli zuccheri e così via, il decorso che ha è quello di un peggioramento, un declino dove vengono, perde la vista, vengono amputati i piedi, il corpo inizia a distruggersi e tra cui si distruggono anche i reni e finisce in dialisi. quindi possiamo dire già da qui che il diabetico e i problemi i reni sono una questione che hanno molto più a che vedere con l'eccesso di zuccheri e il fatto che siano la prima causa di dialisi nel mondo occidentale sono una una riprova che chiaramente sono gli zuccheri. Ma cosa succede perché c'è questo fraintendimento? Quando la persona ha un problema, il rene è già danneggiato, quello che succede è che inizia a perdere proteine nelle urine. Il rene non filtra più bene e autodistruggendosi perde proteine nelle urine. A quel punto ci sono proteine nelle urine e il medico ti dice abbassa il consumo di proteine perché a quel punto il rene è già compromesso. Io credo che nasca qui tutto questo fraintendimento che le proteine danneggiano i reni. Cioè la proteina che fa l'analisi dell'urine vede proteine nei reni e il problema sono le proteine. No, il problema è l'eccesso di zuccheri che mi ha causato il danno ai reni e a quel punto i miei reni perdono proteine. Questa è la sequenza esatta. Quando c'è un eccesso di zuccheri c'è una quella cosa che si chiama glicazione, che sono gli zuccheri che si attaccano alle cellule e muoiono. Quindi letteralmente c'è questa la glicazione, questo questo processo dove il corpo inizia a distruggersi, quello che avviene nel diabetico. Quindi abbiamo detto che è l'eccesso di zuccheri. Dall'altra parte possiamo dire che ci sono tribù nel mondo come i Masai, come gli Eschimesi, che vivono in perfetta salute, mangiano prevalentemente e hanno mangiato negli anni proteine avalanghe e sono anche stati studiati per la loro salute perfetta. In più ci sono degli studi, ce ne sono diversi, ce n'è stato uno su dei bodybuilder che consumavano un alto quantitativo di proteine, quasi 3 grammi per chilo, per un lungo periodo e non ci sono state variazioni nelle analisi del sangue, nei valori renali, non ci sono state variazioni. E poi a conferma di questo c'è uno studio che dice che una dieta alta in proteine non presenta un rischio per la salute dei reni. Quindi questo non è per dire che dobbiamo mangiare solo proteine, ma è per dire che le posso mangiare tranquillamente. Quello che mi causa i danni reni sono un eccesso di zuccheri, di pane, di pasta tutti i giorni, di dolci, di brioche al mattino, di gelati, tutti i cibi processati, raffinati in quantità per tanti anni è molto più probabile che mi portino a una iperglicemia, una iperinsulinemia, un diabete, una resistenza all'insulina e così via. Quindi le proteine se sono una persona sana le posso mangiare, se ho già i reni compromessi dovrò sentire il mio medico perché a quel punto dovrò abbassare anche il consumo di proteine, ma possiamo dire che la colpa, o meglio la colpa primaria non è delle proteine, le puoi mangiare tranquillamente, anche perché in una alimentazione sana, in un'alimentazione dove tu voglia perdere peso, dimagrire, è molto conveniente ridurre il consumo di zuccheri, aumentare il consumo di proteine e quindi questo è quanto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.